Sono le 13.13 del 20 maggio 2023. Comunque per marzo mi trovo qui a mia orta. Qua tutti i giorni a falciare. Non ho il trattore. Tanto per me falciare un basso tempo e fa bene alla salute e nel contempo faccio anche il lavoro. E cominciamo. Cominciamo da qua. L'erba è alta. Guarda com'è alta. E' qua piano e buono. Qua sta in gruicino al meglio e devo fare spazio. Ecco qui. Allora cominciamo prima. Guarda quant'è alta. E' alta. Sì è più duro. Guarda che è il mio ginocchio. Sono 60 centimetri. Va bene. Cominciamo da qui. Allora quando si faccia ci vuole il suo sistema. Sembra facile ma è fatica. Allora metto così. Guardate. Il primo colpo così. Poi metto la gamba così. Una. Due. E tre. Poi la gamba così. Bisogna stare attenti. Ma non togliarsi. E cominciamo da qui. Esatto. Sempre più basso. Allora adesso ci sta pronto questo qua. Non so se si vede. Spostiamo il video da questa parte. Piano piano. No. Per avere. Una mi...